La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto sceticismo. Per esempio io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. È la riflessione offerta da Papa Francesco all'udienza generale. In una soleggiata piazza San Pietro il Pontefice ha dedicato la Catechesi alla differenza e alla complementarità tra l'uomo e la donna, non contrapposizione o subordinazione ma comunione. Il Signore infatti ha affidato la terra all'alleanza dell'uomo e della donna e il suo fallimento inaridisce il mondo degli affetti e oscura il cielo della speranza. Di qui l'urgenza nei pensieri del Pontefice di mettere a fuoco due punti, il tema dell'uomo e della donna creati a immagine di Dio e quello dell'attenzione all'universo femminile. È necessario infatti che la donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso reale, un'autorevolezza riconosciuta nella società e nella Chiesa.